La Tofano resta un problema importante, io incontrerò venerdì mattina il soprintendente per proporre una progettazione di massima sulla Tofano che è quella elaborata dal comune di Nocere Inferiore per il tramite dell'architetto Scopetta e dell'associazione Il Didrammo con la quale facemmo un importante ciclo di conferenze e di proposta progettuale generale, ovviamente non un progetto tecnicamente dettagliato, ma un progetto generale per il riutilizzo della Tofano nel sistema museale campano durante gli anni 2013-2015 che vorremmo sottoporre oggi all'attenzione del sovrintendente e dei finanziamenti ministeriali. Insomma c'è una macchina che cammina ma in un contesto che dovremmo definire più importante e più ampio rispetto a noi che è quello dell'agronocerino sarnese, ipotesi per la quale io immagino la realtà amministrativa coordinata che non sopprima le singole specificità municipali, come stato più volte rappresentato anche dal collega di Nocera Superiore, avendo io come idea portante quella dell'unificazione delle due città, ma dare una struttura di unione dei comuni al complesso dell'agronocerino.